I carabinieri della provincia di Reggio Calabria hanno inferto un altro duro colpo alla produzione di marijuana nella piana di Gioia Tauro. Nel corso di controlli mirati hanno rinvenuto in un capannone apparentemente dismesso nella zona industriale di San Ferdinando oltre 300 sacchi in plastica dal peso di circa 10 kg ciascuno contenente cannabis. L'immobile anche soggetto di sequestro è stato utilizzato per il trattamento delle piante di canapa mediante un articolato sistema di conservazione ed essiccazione effettuato tramite l'utilizzo di luci artificiali ventilatori di grosse dimensioni e reti in nylon grazie alle quali venivano appese le piante prima della lavorazione. All'esito delle successive verifiche chimiche di laboratorio, la sostanza sequestrata, pur essendo riconducibile a tipologie di piante per le quali è consentita la coltivazione, è risultata avere un valore di tetra-idro-cannabinolo, il cosiddetto THC, superiore al massimo consentito dalla legge per la commercializzazione legale della cannabis e dunque, su disposizione della procura della Repubblica di Palmi, è stata confiscata per la successiva distruzione.